A 48 giorni dall'Election Day in Sicilia partiti e movimenti iniziano a tirare le fila per la formazione e la presentazione delle liste per il rinnovo dell'Ars e per la scelta del successore del dimissionario Nello Musumeci. Mentre nel centro-sinistra la candidata in pectore Caterina Chinnici scenderà in campo con almeno quattro liste in attesa di capire se il campo largo con i 5 Stelle resisterà nonostante veti romani, al momento l'unico altro candidato rimane l'ex sindaco di Messina Cateno De Luca che porterebbe in dote ben nove liste. Ancora in alto mare invece il centrodestra che non riesce a trovare la quadra su un nome unico. Quasi tramontata l'ipotesi di un Musumecibis sembrava quasi certa la scelta dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo sponsorizzata da Forza Italia. Nelle ultime ore però sembra invece tornare alta la quotazione di Raffaele Stancanelli, eurodeputato di Fratelli d'Italia che in molti vedono ancora come l'unico nome in grado di portare unità in un centrodestra sempre più frassagliato. Ma mentre si discute di candidati presidente sono già tanti gli aspiranti deputati che hanno iniziato a scaldare i motori. In provincia di Caltrinsetta in Forza Italia sarà l'uscente Michele Mancuso a guidare la lista azzurra che potrà raccontare anche su Rosa Cirrone Cipolla, fresca di record di preferenze nelle recenti comunali di Niscemi e sull'attuale presidente al consiglio comunale di Gela, Salvatore Sammito. In casa PD assodata la candidatura del segretario provinciale Peppe Di Cristina e Di Marco Andaloro, già assessore a San Cataldo. Manca per ora la quota rosa, fuori quasi certamente Annalisa Petitto che avrebbe preferito alla candidatura a Lars una futura corsa alla fascia da primo cittadino a Caltanissetta. Adesso il nome giusto potrebbe essere quello di Elisa Carbone, già sindaco di Sommatino, che non è riuscita a fare il bis alle scorse amministrative. Per il Movimento 5 Stelle, che a settembre potrebbe trovarsi nella strana posizione di alleato del PD alle regionale, rivale dei DEM alle nazionali, è certa la ricandidatura di Nuccio Di Paola. Il coordinatore regionale Grillino potrebbe addirittura scommettere sulla corsa alla presidenza qualora il campo progressista saltasse anche in Sicilia. Niente bis all'Ars, con molta probabilità per l'altra deputata oscente Chetty Damante, che potrebbe scegliere di misurarsi per un posto alla Camera dei Deputati. Confermato per il bis al Senato, invece, l'altro gelese in campo, Pietro Lorefice. Grande movimento al centro, dove la nuova democrazia cristiana a Gela potrebbe puntare su Enzo Cascino, mentre il sodalizio tra noi con l'Italia e l'MPA dell'ex governatore Raffaele Lombardo punta tutto su Rosario Caci, primario di pediatria al Vittorio Emanuele di Gela. Sempre al centro, l'Udc potrebbe confermare la discesa in campo di Silvio Scichilone, coordinatore provinciale dei centristi, che andrebbe a affiancarsi ad Angelo Bellina, ex vice sindaco iriesi e fedelissimo di Roberto Lagalla. Per la Lega sembra ormai certo il nome di Oscar Aiello, già coordinatore provinciale. Da Gela, invece, potrebbe uscire il nome del medico Roberto Alabiso. Non ci sarà, invece, quasi sicuramente Valentina Spinello, ex assessore alla politica sociale di Niscemi. In Fratelli d'Italia, i nomi che circolano sono quelli dell'ex deputato Pino Federico e dell'attuale coordinatore cittadino Salvatore Scuvera. Capitolo politiche, qui tutto è ancora in sospeso. Alleanze, nomi e liste camminano sospese su un filo sottile e l'Election Day non aiuta a dissipare i dubbi, anzi complica il lavoro delle segreterie. L'asse Roma-Palermo, insomma, scricchiola e non poco e a 48 giorni dalle elezioni tutto questo non è fatto rassicurante. Il provvedimento autorizzativo per la fase 2 del progetto Argo Cassiopea potrebbe arrivare in settimana. Sia SNAM che ENI hanno dato i riscontri richiesti dal dirigente Emanuele Tucci e dai tecnici comunali dopo le recenti riunioni indette proprio per fare l'appunto della situazione. Come è sottolineato nel corso di una delle recenti conferenze di servizi dal responsabile della riserva Biviere, Emilio Giudice, c'erano dubbi su un'area ancora sottoposta a sequestro e riconducibile proprio a SNAM. La scorsa settimana le aziende hanno dato riscontro. L'area è stata dissequestrata. SNAM deve quindi procedere con l'ITER per un progetto di riqualificazione ambientale già concordato da alcuni anni e proprio ENI ha dato conferma del di sequestro. Erano gli ultimi passaggi preliminari. Le risposte delle aziende sono state ricevute a Palazzo di Città. Si tratta di note proprio inviate dalle due società, lo spiega anche la dirigente Tuccio. In settimana quindi si potrebbe definire l'ultimo provvedimento autorizzativo. Non è da escludere che l'autorizzazione per le opere a terra possa seguire lo stesso schema di quella di un anno fa che invece consentì i primi interventi nell'area del progetto per il gas. Quindi una via libera con una serie di prescrizioni ambientali da osservare. Il confronto proprio in questo periodo è iniziato anche sulle prescrizioni poste lo scorso anno. C'è già stata una prima verifica con un tavolo che ha messo insieme comune riserva BVR e la società incaricata da Enimed per seguire gli adempimenti ambientali. Sempre la scorsa settimana è stato comunicato che sarà Saipem ad occuparsi della posa della gas pipeline del progetto con un contratto da circa 300 milioni di euro. I sindacati attendono che i lavori partano così da permettere l'assorbimento di mano d'opera per un lungo periodo. Rimane invece in sospeso almeno per l'amministrazione comunale il capitolo delle royalties estrattive del progetto. La normativa infatti esclude introiti per l'ente locale nonostante il maxiprogetto ricada sul territorio comunale lungo la costa locale. Con il governo nazionale e con quello regionale che devono essere rinnovati ad oggi sembra quasi impossibile pensare ad un'intesa che deroghi alla normativa e consenta al municipio di avere una quota delle royalties. Le attività per Argo Cassiopea sono previste principalmente nelle aree dell'isola 27 e dell'isola 30 della raffineria di Contrada Piana del Signore, almeno per quanto riguarda le opere. E' stato approvato da parte dell'Aggiunta il nuovo regolamento per il servizio di trasporto disabili verso i centri di riabilitazione convenzionati con ASP. Una proposta che il settore servizi sociali ha voluto sostenere per raggiungere uno degli obiettivi già predisposti dall'assessore Nadia Gnoffo, che spesso, insieme al sindaco Lucio Greco, è stata destinataria di critiche da parte delle associazioni. Con grande soddisfazione posso dire che come amministrazione abbiamo rispettato gli impegni assunti con le famiglie che in più occasioni si sono rivolte a noi e hanno chiesto maggiore stabilità nell'erogazione del servizio. Devo dire che nonostante comunque l'amministrazione sia intervenuta in questi anni, in questi anni difficili, che conosciamo tutti di emergenza sanitaria, noi comunque siamo intervenuti con una soluzione ponte attraverso il rimborso delle spese che le famiglie affrontavano per raggiungere questi centri. Perché ricordo, scusate se sono ripetitiva, si tratta sempre di un servizio obbligatorio e gratuito, che abbiamo appunto ritenuto di dover disciplinare, di dover regolamentare in maniera separata e differente rispetto agli altri servizi di trasporto. Stiamo parlando di un servizio socio-sanitario che prevede non soltanto il trasporto dell'utente da casa ai centri di abilitazione, ma ovviamente prevede anche un'assistenza, un accompagnamento. Ovviamente deve essere, per questo occorre che venga reclutato, personale, abilitato e che abbia tutte le competenze in materia. Nel regolamento, atteso da diverso tempo, si disciplinano le varie forme di servizio, che potrà essere attivato attraverso convenzione con enti abilitati o con centri che abbiano tutti i requisiti previsti dalle norme in materia, oppure con accreditamento mediante la scelta di enti del terzo settore che rispettino i parametri previsti. L'ultima opzione, invece, prevede che in assenza di servizio organizzato dal Comune, secondo una delle modalità, mediante concessione di contributo per uso di mezzi privati, proprio di terzi, il contributo decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza. Nel regolamento si indica la gratuità del servizio. Il servizio, oggetto del presente regolamento, precisa l'agnoffo, si qualifica come la prestazione sociale gratuita rivolta alla totalità dei cittadini portatori di handicap. Quali sono i prossimi step, i prossimi progetti che il settore dei servizi sociali attuerà da settembre in poi? Guardi, devo dire che nonostante le grave carenze che vive purtroppo il settore, non soltanto a livello economico, finanziario, ma soprattutto come risorse umane, sono sempre meno le risorse umane che ho a disposizione per poter intervenire su temi delicati, perché ricordo che noi trattiamo temi a quanto delicati, trattiamo la disabilità, la fragilità in genere. Però dicono, nonostante tutte quelle poche risorse che ho a disposizione danno veramente il massimo per poter avviare più servizi possibili. Siamo pronti ad avviare molti servizi, siamo intervenuti sul servizio Asacom, abbiamo precettato delle somme e anche lì stiamo lavorando tanto per poter rispettare gli impegni impresi. Finalmente offrire un'assistenza all'autonomia e alla comunicazione già dall'inizio dell'anno scolastico. Anche sulla riflessione stiamo lavorando proprio per far partire il servizio prima possibile. I servizi già previsti sono anche quelli dei campi estivi, che benché fossero definiti così si tratta di campi, e questo non dipende da noi, ma le somme sono state erogate, soltanto adesso stiamo aspettando le norme attuative. Partiranno da settembre in poi l'educativa domiciliare, continueremo con l'assegno civico, partiranno i PUC. C'è tanta carne sul fuoco. Sul finire dello scorso anno i giudici della Corte d'Appello di Roma hanno disposto condanne per il boss 61enne Salvatore Rinsivillo e per i carabinieri Cristiano Petrone e Marco Lazzari. Secondo le accuse maturate con l'inchiesta Extra Fines Druso, Rinsivillo, difeso dall'avvocato Roberto Afeltra, sarebbe riuscito ad ottenere dati riservati attraverso i due militari dell'arma. Le motivazioni sono state depositate e le difese si rivolgeranno alla Cassazione. Per Rinsivillo era arrivata la conferma della decisione di primo grado con la condanna a dieci anni di detenzione. Per i carabinieri invece i giudici di appello romani hanno escluso l'aggravante mafiosa accogliendo la ricostruzione fornita dai legali. Così le pene sono state ridotte, sei anni o mese di detenzione. Per Lazzari, difeso dall'avvocato Cesare Placanica, in primo grado era stato condannato ad otto anni, sei anni e undici mesi invece per Petrone rappresentato dal legale Silvia De Blasis. Nei suoi confronti in primo grado erano stati disposti nove anni di reclusione. Per Lazzari è invece arrivata l'assoluzione per uno dei capi di imputazione. Il procedimento in secondo grado ha riguardato anche l'avvocato Gian Domenico D'Ambra rappresentato dal legale Domenico Mariani. Già coinvolto nell'indagine extra fine si la professionista si sarebbe messo a disposizione di Rinsivillo per investimenti nella capitale e non solo. In appello ha scelto un concordato mentre in primo grado era stato condannato a tre anni e sei mesi di detenzione. Saranno quindi giudici di Cassazione a valutare i ricorsi dei difensori di Rinsivillo, Lazzari e Petrone. Gli investigatori romani, partendo sempre dai contatti di Rinsivillo, sono arrivati a contestare agli imputati a vario titolo non solo l'accesso illecito ai sistemi informatici delle forze dell'ordine ma anche la corruzione. Non perdere finanziamenti è uno dei comandamenti che l'amministrazione comunale sta cercando di seguire nonostante le tante difficoltà degli uffici che vanno avanti con poco personale e ora anche in piena emergenza per l'assottigliamento della batteria dei dirigenti. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori la scorsa settimana hanno varato l'unità speciale per i progetti finanziati con fondi del PNRR che consentirà di andare in deroga assumendo un nuovo dirigente che si occupi proprio di queste attività. Sempre la scorsa settimana la regione ha fatto pervenire solleciti a Palazzo di Città per avere riscontri sui cronoprogrammi di tre progetti che l'amministrazione ha ripreso per quello dei lavori della biblioteca comunale per il progetto che riguarda l'area esterna di Palazzo Ducale. I finanziamenti furono confermati nell'estate di tre anni fa, l'amministrazione se ne è fatta carico e ha portato avanti le procedure seppur non siano mancati rallentamenti. Soprattutto per la biblioteca di Largo San Biagio l'attività è in fase avanzata ma gli uffici stanno cercando di finalizzare tutte le tappe previste. Senza riscontro infatti Palermo potrebbe assumere decisioni sicuramente non auspicabili, i RUP comunali entro i prossimi giorni risponderanno alle richieste. Nessuno intende perdere i finanziamenti come invece accaduto di recente con le somme per lavori di efficientamento in due diversi istituti scolastici della città. In quest'ultimo caso la regione ha disimpegnato somme per oltre 7 milioni di euro. Si è ritenuto che non ci fossero più le condizioni per rispettare le scadenze. Torna per la non edizione il premio Eleonora Lavorre. Tantissimi ospiti e grandi eccellenze gelesi sul palco stasera. Torna per un altro anno il premio Eleonora Lavorre. Siamo alla non edizione, siamo felicissimi, siamo sempre qui a Gela per dare spazi al talento e valorizzarlo. Questo è il premio Eleonora Lavorre che ogni anno mette dei piedi anche a Roma. Infatti si è concluso il 13 luglio la finale dove abbiamo avuto finalmente una siciliana di Gela che ha vinto il premio assoluto. Clara Bellavia che questa sera sarà qui ospite. Poi abbiamo grandi ospiti, grandi attori, è una consulente di immagine. Abbiamo con noi Maurizio In che con la nuova hit cos'è che sta spopolando su Spotify, su YouTube. Poi abbiamo il nostro attore Flavio Alessi che si esibirà questa sera e poi abbiamo la nostra consulente di immagine Silvia Matarazzo che ci spiegherà che oltre alla voce è importante anche avere una certa immagine per stare sul palco. Vuoi chiamare qualcuno di questi ospiti? Sì, Flavio vieni. Ecco Flavio. Buonasera a tutti. Ciao Flavio, che emozione è per te essere qui stasera? È un'emozione grande ma soprattutto quando sono stato a Roma ho sentito quando hanno detto la giuria di fama quasi internazionale mi ha reso emozionante. Cosa ci porterai stasera sul palco? Stasera porterò un monologo dal titolo Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. Un tema molto importante soprattutto alla tua età? Sì, il tema e il bullismo è un tema molto toccante anche a questa età soprattutto. L'immagine è fondamentale perché appunto l'immagine dice tutto e parla proprio di noi, soprattutto è fondamentale nel panorama appunto musicale. Credo fermamente per competenze che l'immagine svolge un ruolo essenziale nel panorama del successo di band, di artisti professionisti ed emergenti. Motivo per cui è fondamentale definire il proprio stile per avere un'immagine distintiva che permetta al pubblico di identificare nell'immediatezza l'artista. Per me partecipare stasera è un onore anche perché mia madre è originale di questa città e mi piace, conosco molte persone di qua che mi conoscono. Suono il violino da cinque anni e vado al conservatorio di Palermo sempre da cinque anni. Faccio questi eventi ogni tanto da due anni e mi piace suonare con mia madre, matrimoni, spettacoli come questo. Tu sei un figlio d'arte, ma com'è nata in te questo amore? Allora mia sorella ha iniziato a suonare prima di me perché lei suona anche me. All'inizio non me ne fregava niente dato che ero piccolino però dovevo assistere per forza alle sue lezioni. Allora mi sono innamorato nel suono del violino così ho incominciato a suonarlo anche io. Io stasera sono ospite, mi ha chiamato Giuseppe Lavori, mi ha detto vieni a Gelo nella tua città natale, devi esibirti. Gli farà ascoltare, gli farà ascoltare San José, un mio pezzo inedito che è nato nei primi di luglio che sembrerebbe che sta volando, siamo a 220.000 visualizzazioni in 28 giorni, 30 e quindi sono contento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.